Sono 14 le persone arrestate nel corso di un'operazione di polizia svolta tra Italia, Slovenia, Croazia e Spagna per smantellare un'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di armi da guerra clandestine provenienti da paesi dell'ex Yugoslavia e destinate al mercato illegale di vari paesi europei attraverso il transito in Italia. L'accusa è importazione, detenzione e trasporto di armi clandestine. Complessivamente nel nostro paese sono stati sequestrati due pistole, otto fucili kalashnikov, due pistole mitragliatrici, 12 caricatori e due silenziatori calibro 7,65. L'indagine è durata alcuni mesi e si è conclusa nei giorni scorsi con i blitz congiunti delle forze di polizia dei paesi coinvolti. L'inchiesta denominata COLUMB, coordinata dall'Ufficio Europeo di Polizia Europol, è stata condotta congiuntamente con il personale della Guardia Civil Spagnola e con i carabinieri del nucleo investigativo di Gorizia. Lo scorso 19 aprile a Savogna di Sonzo, lungo il tratto autostradale A34 Villesse Gorizia, i militari avevano fermato con il supporto del nucleo radiomobile della compagnia carabinieri una Peugeot 206 con targa svizzera, proveniente dalla Slovenia e condotta da un cittadino bosniaco. A bordo i militari dell'arma avevano rinvenuto un ingente quantitativo di armi da guerra, alcune delle quali con matricola brasa, perfettamente funzionanti, e il relativo munizionamento. Durante la perquisizione personale del cittadino bosniaco era stato sequestrato un bigliettino sul quale erano tracciati il tragitto e la verosimile destinazione finale del carico di armi, proveniente dalla Slovenia e destinato a Barcellona in Spagna. L'uomo era stato arrestato assieme ad un'altra persona e l'indagine di conseguenza aveva preso il via. In Slovenia sono stati rinvenuti 5 fucili automatici, 4 fucili semi-automatici, 2 fucili a ripetizione, 3 fucili con silenziatore, un fucili a pompa, 39 pistole, 7 revolver e proiettili di vario calibro. In Croazia l'operazione ha permesso di scoprire e sequestrare un fucile automatico, 2 revolver, una pistola e proiettili di vario calibro.